E bella a tutti raga, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di portarvi questo video per spiegarvi dei modi per aumentare i livelli di testosterone al massimo. Innanzitutto iniziamo dicendo che cos'è il testosterone. È un ormone che viene prodotto principalmente nei testicoli ed è essenziale per lo sviluppo delle caratteristiche maschili nell'uomo. E importantissimo gioca anche un ruolo chiave nella creazione di massa muscolare e ossa forte. La cosa importante di chi ha un buon livello di testosterone è che hanno cuore e sangue molto sangue. E ricordate che una massa corporea più magra aiuta a controllare il peso e aumenta l'energia. Quindi meglio avere un peso forma diciamo abbastanza stabile ognuno per il suo corpo. Bene, dopo queste piccole premesse vi elenco dei modi per aumentare questo livello di testosterone e sviluppare la vostra massa muscolare al meglio. Come prima cosa la perdita di peso, cioè perdere massa grassa e avere più massa magra. Quindi se siete in sovrappeso, perdere i vostri chili vi aumenteranno i livelli di testosterone. Come seconda cosa è fare esercizio fisico ad alta intensità. Quindi fate un allenamento di breve durata ma molto intenso. Come terza cosa fondamentale è assumere una buona quantità di zinco. E per avere una buona fonte di zinco basta seguire una dieta completa e varia. Ricca di proteine però bisogna fare attenzione a non superare i livelli prestabiliti per ogni uomo che sono di 40 mg al giorno. Come quarta cosa è ridurre lo stress. Perché quando si è oppressi dallo stress il corpo rilascia alti livelli di cortisolo che è l'ormone dello stress. E di fatti questo ormone blocca i livelli di testosterone e quindi si avrà una minor produzione. Come quinta ed ultima cosa ma attenzione è molto fondamentale. Cercare di limitare o addirittura eliminare del tutto lo zucchero dalla dieta. Soprattutto zuccheri lavorati perché i livelli di testosterone si abbassano dopo aver mangiato lo zucchero. Perché lo zucchero alza i livelli di insulina che è un fattore che fa abbassare il livello di testosterone. Quindi cercate di limitare i vostri livelli di zucchero e in un breve tempo vi porterà a dei miglioramenti fondamentali per il vostro corpo. Per questo video è tutto. Spero di avervi informato nel miglior modo possibile. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti raga.